Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per interpretare come cambia gli ambienti acquatici dobbiamo andare a prendere una serie di informazioni tra le quali climatologiche sono le più importanti. Ecco, io ho un senso rosso che è un approccio scientifico a pensare nei meccanismi che prendono posto e si sostituiscono a meccanismi precedenti. E quindi per conoscere questi noi dobbiamo andare a separare le diverse componenti.